ciao ragazzi ciao come state bene bene allora proviamo a fare queste quattro chiacchiere completamente improvvisate voi siete una band è la prima intervista questa che fate no la seconda la seconda con chi l'avete fatta la prima la prima intervista prima della vittoria del contest che ci ha permesso di registrare il simbolo ah sì bello bello ma senti gaia come è nata la vostra band come come vi siete conosciuti molto a caso nel senso abbiamo tutti e cinque il sogno della musica e tutti e cinque studiamo in questa scuola di musica t4 che si chiama sonoria di cossato e un giorno per caso visto che sonoria mette a disposizione questi laboratori dove permette agli studenti di confrontarsi sul proprio livello musicale davide mi ha incontrato appunto durante un laboratorio e mi ha convocata alle prove di questo gruppo che all'epoca era soltanto un trio che suonava quasi un po per divertimento e ho deciso di buttarmi e ho incontrato questi tre ragazzi all'inizio mi sembravano molto 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 simpatici un po fuori dalle righe e soprattutto determinati e da lì ci siamo tra virgolette uniti abbiamo poi conosciuto camilla che si è unita dopo al gruppo da poco da sei mesi sei sette mesi che con noi si da luglio esatto e abbiamo iniziato questo progetto outsiders ecco senti elia invece ma qual è l'iter che adottate per costruire un brano dall'inizio alla fine ma adesso l'unico brano per intero è quello che abbiamo registrato però in generale è una cosa che nasce da tutti c'è non è mai singolo che dice si fa così o impone una propria idea siamo sempre noi che alle prove o a casa ci viene in mente un'idea ci confrontiamo con gli altri e ognuno aggiunge la sua parte ognuno dice potrebbe andar bene così fai i suoi aggiustamenti e nasce poi tutto insieme certo se sì ma è solo invece che vi siete esibiti sul palco se non sbaglio delle bolle di malto Francesco che emozioni si provano a suonare su un palco con la gente che balla a tempo è il palco più grosso su cui abbia mai suonato fino adesso ed è stato bellissimo c'è ogni volta quell'adrenalina un po' io ho suonato per tanti anni il violino e ogni volta che salivo mi ricordo che proprio mi incaricavo se magari anche non era una giornata tutto bello rose e fiori avevo fatto male alle prove avevo preso il cazziatone dall'insegnante non stavo bene avevo la febbre salivo sul palco e però ero a casa mi sentivo mi sentivo benissimo sapevo che avrei dato il meglio ma anche non avessi saputo il pezzo al 100% capita anche a voi questo? sì avevo un po' di ansia all'inizio poi quando ho visto che la gente comunque ci ascoltava ci divertiva mi sono tranquillizzato senti ma invece Camilla tu suoni anche il violoncello il gran basso vero? sì suono da 11 anni il violoncello però quest'anno ho deciso di mollare non pensavo più fosse la mia strada ero molto più convinta a suonare il basso e quindi ho deciso di smettere però comunque per alcune occasioni continuo a suonarlo certo certo 11 anni mamma mia mamma mia ma invece per il basso sei autodidatta segui delle lezioni? no seguo delle lezioni da due anni sempre nella scuola di musica di sonoria però devo dire che è stato grazie agli 11 anni di violoncello è stato molto più semplice poi suonare il basso certo sì sì e invece Davide a quale grande chitarrista ti ispiri? eh Angus Pianco gli attivisti è il mio idolo da sempre eh bravo mamma in tutto e per tutto sia per come suona che per come si muove sul palco per come intrattiene eccetera certo sì sì spacca mamma mia ma invece Gaia ti riconosci nel ruolo di frontman oppure no? sì decisamente eh solitamente come persona cerco di reprimere eh la parte di me che è tra virgolette esuberante molto molto egocentrica a volte a tratti un po' fuori dalle righe quindi prendo ad essere molto insicura a tratti e timida per poi lasciarmi andare sul palco alle emozioni del momento ed è molto bello te la sentiresti mai di lasciare tutti i tuoi compagni e firmare un contratto discografico miliardario da sola? no mai questa è registrata e poi fa 6-7 anni ne parliamo Francesca invece tu sei un batterista giusto? quante denunce dai vicini hai preso? nessuna per adesso perché come vicino ai nonni ah ok ok perfetto ma eh fra Davide e Delia c'è rivalità fra chitarristi? o c'è amore fraterno? no c'è assolutamente nel senso vi stimolate a vicenda? sì sì cioè siamo amici da sempre non possono esserci rivalità certo fin da qua siamo alti un centimetro quindi bello beh però questo è bello è molto bello ma Camilla invece quanto è difficile adesso suonare tutti assieme in quarantena? come fate? come vi organizzate? eh è un po' difficile allora stiamo scrivendo un pezzo nuovo quindi non è ancora non si capisce ancora bene cosa deve venire fuori abbiamo l'intenzione abbiamo quello che vogliamo ma non sappiamo ancora come metterlo giù quindi pian piano ci stiamo mandando le registrazioni singole delle varie parti del brano e poi con il programma Audacity cerchiamo di metterle tutte insieme però ovviamente il risultato è quel che è eh beh certo certo ma a proposito di pezzi so che a breve uscirà il vostro nuovo singolo No Way Back com'è nato questo testo? allora com'è nato questo pezzo? questo pezzo ha origini un anno e mezzo fa la prima idea di questo pezzo in cui durante una prova della band Davide ha iniziato a strimpellare la chitarra facendo questo riff molto interessante e io giocando ho iniziato a cantare questo pezzo di testo ovvero No Back che poi si è trasformato in No Way Back tempo dopo abbiamo ripreso questa vecchia idea e grazie all'aiuto di tutti si è trasformato in un pezzo perché ognuno di noi comunque viene da storie diverse difficili o non difficili e questo pezzo voleva essere un manifesto della nostra voglia della nostra intraprendenza seguire il progetto The Outsiders abbandonando eh tra virgolette le vecchie le vecchie strade e le nostre avventure private ma concentrandoci sulla musica certo io ho avuto l'onore di vedere in anteprima il videoclip forse non avrei dovuto però e quindi non l'ho anche sentita vi garantisco che è davvero davvero molto bella eh però non faccio spoiler dai non faccio spoiler eh volete anticiparci qualcosa riguardo tour vabbè naturalmente adesso è tutto sospeso però avete intenzione di fare qualche data in giro qualcosa quando si potrà sempre domanda aperta ci sarebbe dovuta essere una data all'uscita del pezzo organizzata da da chi aveva già organizzato il contest che abbiamo vinto però appunto vista la situazione non sappiamo come si procederà certo perché mi ricordo che quando vi ho contattato avevo parlato appunto con te Camilla mi avevi detto che il pezzo sarebbe già dovuto uscire se non sbaglio il 17 marzo una cosa del genere ma poi a caso di emergenza è andato tutto a rotoli avete già in mente una data futura in cui farete uscire il pezzo aspettate che si calmino le acque purtroppo no stiamo soltanto aspettando che la situazione migliori perché anche nel mondo nel mondo della musica le cose sono molto sospese e quindi aspettiamo direttive come si suol dire dall'alto certo per capire come procedere ok dai grazie mille non posso chiedervi un autografo di solito quando faccio un'intervista chiedo l'autografo così come ricordo gli ho tutti collezionati non posso chiedervi un autografo però faccio la promessa che il momento in cui possiamo uscire di casa verrò a sentire vi chiederò l'autografo sempre che me lo vogliete fare con piacere è stato davvero un piacere chiacchierare con voi dai mi raccomando continuate a spaccare come state facendo adesso grazie mille grazie mille ciao 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 ciao